Che bel tigran ti trovavo? E' stronzo! Descusso! Va bel trovati, ho una nuova puntata di Red Dead Redemption Red Dead Redemption Iniziamo con la ronda Dottor Eyyy Let's go Lo ve lo leggo C'è una taglia da pagare per aver ascoltato quel deficiente che me lo vuole pagare ma solo che il carro è andato a farsi fottere Sigh Restate con il perro, il mio entrenatore C'è un problema? Call me! Restate con il cuore, amico! Restate con il mio cavallo Dove è il mio cavallo? L'A750 L'A750 Eccolo qua E' a lui? Puede che? E' a lui? E' a lui? E' a lui? D'acqua? D'acqua? E' a lui? E su? Che avevo trovato il cane? Questo sembra male per me, ma è vero per te! Ok... Ma che ne mancano due Ma che genere ha le vittime? Dove vero perdere più o meno l'onore Aaaaaah... Lo che bella è? Dai, 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 dai! Deve vartarsi a la fine. Hey, 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 Hey вокруг, no monito, venga, hourally! Non sono più... Oh, ok... Ok... Ok, ragazzi, vai! Ehi, fuori da qui! Oh, no! Nooo, per favore! Ok, vediamo quanti soldi mi dà, uhuh, e adesso? Ah, lontani e erano quei tempi in cui ero proprio morto adesso andando. Sto facendo un sacco di soldi. Quante persone ci sono? Uno, due, uno. No, se ne è andato uno, vaffanculo. Oh, ma che fai? Non vuoi scendere? No, volevo giocare a poker. Fortunata, no. Ma qualcuno chi è ammallombrando? No, volevo giocare a poker, io. No, vaffanculo. Non vaffanculo. Non vaffanculo. Cosa? Ahia... Cosa? Cosa? Ah. for the rest of your life on earth if that makes you happy... yes i shall indeed sir well then your deal oh marston would you like to join us? i dont think so i am just gonna have a drink oh come on sit down sit down ok then gentlemen e namakshon oooh Scusate se sei anche così fortunato come Mr. Ricketts qui. Mi sarebbe piaciuto un whisky, se vuoi comprare, Muller. Aspetta, queste sono... queste sono forse puntate... Niente come una carta fatta apposta. Secondo me. Oh, voglio puntare 100, su! Punti! Lasciate... No, grazie. Molti suoi amici! Che interessante! Oh, sì! Tutti è arrivato a me ora! Eh, certo, siamo in cinque. Sette, otto, vediamo. E che cazzo è? Lasciate tutti! Sì. Non ho chiesto niente, però... You fucking cheat! Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Now, Herr Muller. Let's calm down, there must be some mistake. There's no mistake, your Yankee friend here is a fucking cheat! Easy there, Germany, calm yourself down. Oh, sì. You know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend. Which was nothing. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You, you planted this guy Rickards. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now calm down and let's finish the game. No, 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 no. Ehm... There must be a name for this? An impasse, sir. An impasse. We could all die, here and now. Ho già capito che è l'attore che interpreta questa Non c'è l'attore, Ricketts, ma gli Yankees non mi piace L'ha fatto, non lo sai, Muller L'ha fatto non è buono, oltre, il vincitore prende la parte Il vincitore prende quello che vuole L'altro, non sarà in posizione di argomentare Sanchez sarà il mio secondo Come ti chiesti, Germania Come ti chiesti Cazzo Scopi, questo personaggio Questo Ricketts Ho già capito chi è Cazzo Ricketts Come se già non avessi due al lato Però Magari imparare qualcosa Mio Dio Ok Non posso saccacciarlo Non posso racconto Come se Di nuovo Di nuovo Ma Di nuovo Di nuovo De nuovo Di nuovo ma come cazzo fate a fare un duello con con oh punto ok questo si fa tutto no collaccio no che cavolo son che cavolo oh no che SO AC AC bella che era oh no 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 Sì, no te puta! Toma, cabrón! Sto prendendo i soldini Bruco, questo... Il personaggio... Questo Ricketts Ho già capito chi è! È quello... Mr. Trout di GTA San Andreas È lui! È lui! Sia fisicamente che con la voce, è lui! Beh, se questo è un rete da redaction del 2010 San Andreas è del 2004 Con più o meno... Sì, non c'erano anni per fare un videogioco Quindi... Non è che siano passati solo sei anni Sì, non c'erano anni, ma guarda! Ci sei se l'altro non ho ancora visto Chi sei se l'altro non ho ancora visto? Però niente male, volevo solo giocare a poker Oh! Mi scusi Eh? Cosa cazzo è morta questa? Ho questo! No! Come è morta? Ma è morta? Ma è morta indicando la strada di qualcuno per qualcuno No! No, no! 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 E adesso? Il convoglio di carro... di carro in messicano Sì! Sì! Ehi gringo! Mr Ricketts Come in! Sì! 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 Niente parole di Javier Scuola? No! No? Non ancora! Sì! Perché sei dopo lui comunque? Sì! Siamo vecchi amici Siamo un po' insegnamento Quindi cosa è questo? Una sorta di riunione di high school? qualcosa di così Beh... Hai matato persone Hai vivuto la vita Che ho avuto E ho cercato di stoppare Dio... Non lo so O che è? Un po' Ero! Un po' Un po' Un po' Un po' Ah, buono. Ma kiket, ora ne vim fonda arribat akkor. L'Allende è mandato più uomini alla morte Prenditori che non sono stati Un scrittore di Castilla E un ufficio locale Il quattro uomini non era mettere i piccoli sulle strade quando si sono stati con le taxe Uomini e uomini Per una volta con l'Allende alcuni uomini hanno bisogno di essere uccisi Mr. Ricketts Ah... Stavo giocando... Onde sono? L'escalera Prenditori che non ci sono stati E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' D' un po' E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Un po' la 750 dollari questo non è un gioco Marston questi uomini devono essere eseguiti Luisa era abbastanza assicurata lei è assicurata, questa guerra è diventata da giorno le persone stanno essere eseguitate per solo avere un'opinione Melinda sembra che abbia più avanti potrebbe sapere rumore ha visto che hai fatto tutti i nuovi amici non prego molta attenzione solo fai attenzione guardate da un'altra parte a un'altra parte potrebbe essere impagato devo trovare questi due uomini con il rispetto come faccio non c'è nessuno prendi la tua attenzione come potrei non perdere e chi è tu John Marston? a parte di un uomini che ci può trovare il mio nome significa qualcosa tutto ciò che hai fatto è uccidere alcuni pezzi e l'unica reale che hai fatto che ti ha scoperto come una buona che ti ha scoperto ora mi chiede a te guardare la tua attenzione tutto ciò che sto dicendo è magari c'è una ragione di cui le persone qui non vogliono parlare a parte devi chiedere la tua famiglia è l'unica cosa che mi ha fatto sai ti ricordi a me ricordi mi ricordi di me come ho sempre come ho sempre stuporio e angri non c'è che cosa vedete vittori 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 che cosa che cosa vittori 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 non è vero oooop vedi 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 tempo vedi 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 Oh la la! Ok, colpa il mio cavallo! ... ... ... ... ... ... che c'è ancora la città! Ah non c'è il giro! Non c'è il giro, non c'è. Non c'è l'unico! Tu ci piacciono altri bambini con chi sta giunito? Vabbè adesso ecco dove penso io Ah è qui eh Arriveranno gli amici Thank you Siamo già arrivati I'LL KILL ALL THEM! Kill them! Ok Why are you stuck with me? Go on Oh Ok, he's still low going Keep going What the hell? We can't stop now Oh no Oh no All right Let's see What the hell? What the hell? What the hell? Ok Ok I can't drive both dragons now can I? Ok Thank you Scott Drive no more gate Ok 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 Sof Okay andremo a più sembra però comunque adesso posso attraversare le due le due zone senza problemi o almeno credo cos'è questa? ah armadillo dove potrei andare adesso? potrei fare una visitina non so non so non so Ah? 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 Come on, easy up now! What's going on? What's going on? I need your help! Some prisoners escaped! Kilton Parker! They were the ones that... Slow up! Okay. You really want to die, friend? Oh man, they would have killed me if they broke loose. Not a problem, sir. What the...? Oh ha ha ha! Lord, what are you eating? sto diventando vecchio per questa cosa mio dio mio dio ora è qua e non c'è niente è l'altro qui bene 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 non c'è niente pure ma siete dei poveri cristi ahhh a fare la ronda notturna al ranch a fare la ronda notturna cosa che devo fare io a orsi qui si fanno i cinghiali dove cazzo li trovo i cinghiali ooooh porta 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 corre corre a a a a a a a a ma qua io prima l'avevo qua ce l'avevo fatta il porto doveva essere già mio a a a c'è scritto triangolo sali a 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 e poi a a i mexicali qui dai messicani Ma questa mi è nuova Questa è un territorio statunitense Poi è stata matta Molto Quindi È l'ora di mettergli tutti a nanna Uno Uno E due Andiamo lì Facciamo tre No Che che mi sta sparando di contenu Allora Oh no! Dov'è? Dov'è? Dov'è là? Non lo vedo! Dov'è chi è mio? Aspetta un attimo! Voglio vedere una cosa! Ah! Mi sembrava che avesse il periodo! Faccio la cucuzza! No! Niente testa! Uno! Mamma mia! Ooooooooh! What the hell? Oh no! Wow! Oh no! Oh no! Alguien buscame aiuda! Oh no! Cosissimo! Uuuuh! Eres un hombre muerto! Dov'è? Ne manca uno! Incapita i banditos! Allora! Uno! Due! E tre! Aiuto! Tutti morti sono! E' il che me traiga un medico! Vincere le scoperte! Ok! Ti basta solo un colpo, ma... Ormai sei morto! Non ce la farei mai ad ammazzarmi, stronzo! Non ce la farei mai ad ammazzare! Non ce la farei mai ad ammazzare! Va appunto! C'è la ripetizione! Non ce la farei mai ad ammazzare! Volevo per la massima C'è tanto da fare su football Apri le porte e le porte Ok entro Grazie! Ora vieni! Questa gamba non si tratta senza una combina Si sembra che queste stesse sono tutte che ci sono restate Poi puoi avere qualsiasi è in là Guarderò ciò che ho bisogno ALERTA Dentro che c'è? Sarà Vart merce Fine Ottimo E io che volevo per la ronda notur Sì, vamo! E diciamo a donna Ma che schifo è? Anda! Quante sottane Spera non escappa, no è? Perché ci sono spagnole qui? Perché ci sono spagnole qui? Ah! Ok Volevo andare a fare un po' di ronda Ma credo che non sia più disponibile Appunto Mai non è più disponibile Ah! Volevo fare braccia di ferro Dov'è il mio ambito cavallo? No, no, no! Fa ora! Fuorza, fuorza! No, a fare braccio di ferro. Cosa c'è qua? Parte riservate. No, mica ci sono figli di india qua. Punto. La salvia rubla. Andiamo a fare braccio di ferro. Se la decodifica me lo permette. Aspetta che mi sta. Stando le palle. Un po' di salvia rubla non fa male. E dai, scendi da sto cazzo di cavallo. E andiamo. No 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 no, stavo scherzando. Nessuno vuole fare braccio di ferro. Siamo tutti spaventati? Qua non c'è innesso la missione? No Ok Buono tu Va bene Ficca una fitta Vabbè ragazzi noi ci vediamo Alla prossima parte Yes Quindi Bye bye